la crisi di coppia fra enzo paolo turchi e carmen russo era reale a confermarlo è proprio lei cosa ha detto nella casa del grande fratello enzo paolo turchi ha confessato di essere in crisi con la moglie carmen russo in tanti hanno pensato che si trattasse di strategia ma a topare la maretta era più che reale dopo le parole allarmanti del coreografo alfonso signorini ha deciso di invitare la sua dolce metà nel loft di cine città soprattutto per convincerlo a rimanere dentro e non farsi mangiare dai pensieri intrusivi di quel periodo inizialmente però enzo paolo turchi non è sembrato contento di vedere la sua carmen all'interno del grande fratello dopo qualche giorno di incomprensione però i due hanno ritrovato la sintonia ammaliando i telespettatori da casa e i coinquilini del loft tuttavia la ballerina è rimasta all'interno del reality solamente una settimana ma prima di lasciare la casa del grande fratello ha fatto una confessione shock nella casa di cine città carmen ed enzo paolo hanno avuto un momento di intimità e a quanto riferisce la diretta interessata sarebbe stato proprio quello a rimetterli sulla giusta carreggiata scacciando via la crisi di coppia le ultime confessioni sul matrimonio con il noto coreografo sono arrivate grazie a un'intervista di superguida tv carmen russo ammette la crisi con enzo paolo turchi raggiunta da superguida tv carmen russo ha ammesso di aver vissuto un momento di crisi con enzo paolo turchi ma cosa è successo la ballerina ne ha parlato al noto portale enzo paolo ha avuto un momento di crisi una situazione in cui si è trovato a fare i conti con tante sensazioni anche negative in quel contesto particolare è facile sentirsi vulnerabili e provare un senso di inutilità che poi porta anche a cercare conferme esterne sono davvero grata al grande fratello e ad alfonso per avermi dato la possibilità di entrare e sostenerlo in quel momento a far riconciliare i due sposi ci avrebbe pensato il momento di intimità vissuto nella casa del grande fratello questa circostanza era stata ammessa dalla ballerina proprio durante il suo ultimo confronto in confessionale ancora poi al settimanale diva e donna carmen russo ha ammesso di aver fatto l'amore con suo marito enzo paolo turchi proprio nel loft di cine città abbiamo fatto l'amore in tv e non ci lasciamo più al momento quindi il periodo di maretta è stato ampiamente superato da entrambi oggi i due ballerini sono affiatatissimi e più innamorati di prima